Buone notizie sulla mensa delle scuole materne sancataldesi. L'assessore comunale alla pubblica istruzione Lorena Leonardi ha infatti diffuso un comunicato stampa ufficiale nel quale informa che il servizio di refezione scolastica partirà la prossima settimana, presumibilmente lunedì 11 novembre, in quanto la data esatta è ancora da stabilire. A due mesi dall'inizio della scuola i bimbi sancataldesi avranno dunque la possibilità di usufruire del pasto durante le ore scolastiche e potranno restare in classe sino alle 16, un orario che soprattutto nelle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori risulta più agevole. Il servizio, così come era già stato annunciato, sarebbe dovuto partire dopo la fiera, cioè a metà ottobre, a bloccarlo il ricorso al tarre per eccessivo ribasso da parte della seconda classificata alla gara d'appalto, ma anche problemi tecnici dovuti alla mancanza del documento di informativa antimafia. Ora il servizio con la firma del contratto è stato affidato alla dittà giudicatrice della gara, che ha curato il servizio anche lo scorso anno, in attesa che arrivi la relativa documentazione necessaria e quindi con riserva di legge per un mese, rinnovabile per un altro mese. Soddisfatti i genitori cui rappresentanti di classe nei giorni scorsi si sono recati sia negli uffici del comune che in quegli è il plesso scolastico per chiedere informazioni ed eventualmente risolvere in modo autonomo e privato la situazione, che rendeva difficile anche il normale percorso formativo dei giovani alunni. L'amministrazione, si legge nella nota del comune, ancora una volta dimostra di essere sensibili alle esigenze dei cittadini e in particolare dei bambini, nonché delle lavoratrici.